La campagna è legata, Cristo è morto, quindi dalle tre del pomeriggio non è permesso nessun suono, quindi la Tocca Tocca è l'unico suono che mi sentirei. La Tocca Tocca è questo strumento, che è altro, non è che sono due pezzi di ferro che fanno rumore contro una base in legno. Lui è il signor Pasquale dell'artigiano che fabbrica questa Tocca Tocca che abbiamo imparato un po' a conoscere. Questa bottega apparteneva a suo nonno? No, 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 questa l'ho presa in affitto 40 anni fa, da 40 anni che sto facendo il restauro, faccio il taglio, e faccio il toccatore. E chi l'ha insegnato? A dire la verità da solo. Ah, bravo. A dire la verità da solo. Possiamo comunque dare un sguardo al suo frutto, che è stato impinto nel 1734 da dei Molfettesi, era la bottega dei Podda, composto da tre riquadri principali. La chiesa oggi è dedicata all'assunta e lui è dal 1700, cioè proprio da quando la chiesa è stata restaurata, ristrutturata, e quindi troviamo appunto l'assunzione e l'incoronazione della Vergine. Mentre se guardiamo invece il dipinto, quello di vicino, all'ingresso della chiesa cattedrale, troviamo un episodio dedicato a San Nicola. San Nicola che libera a Diodato al banchetto del Silia Garino, perché San Nicola è il nostro santo patrono. San Nicola, perché San Nicola è il nostro santo patrono, perché San Nicola è il nostro santo patrono. San Nicola è quello che non ci hava, perché San Nicola è il nostro santo patrono, e questo significa che divenne, che vi all'anno, Grazie. Grazie. Grazie.